Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Andiamo alla prima stazione. Prima stazione, Gesù condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai detto il mondo. Pilato diceva loro, che male ha fatto. Allora essi chiedarono più forte, crocifigilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ascendiamo, mie delettissime sorelle e figliuole, senza mai stancarci il calvario carichi della croce e teniamo per fermo che la nostra ascensione ci condurrà alla celeste visione del nostro dolcissimo Salvatore. Diciamo insieme, Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Signore, aiutaci a capire che tutto quello che hai fatto, l'hai fatto per noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo dirti grazie. Signore, pietà, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E al Signore, sempre, nei secoli dei secoli anni. Santa Madre de voi fate che le fiaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai resento il mondo. Dopo averlo schernito lo spogliarono della porpora e gli rimissero le sue bestie. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Gesù disse ai suoi discepoli se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua. Quanto è dolce, Padre, il nome croce. Qui a piede la croce di Gesù le anime si rivestono di luce si infiammano di amore qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Si ad essa croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo la scuola di perfezione l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza. Diciamo insieme Signore, pietà, pietà di noi Signore, pietà, pietà di noi Gesù, aiutaci a capire e a fare la Tua volontà Signore, pietà, pietà di noi Gesù, aiutaci ad accettare la sofferenza Signore, pietà, pietà di noi Gesù, aiutaci ad accogliere il Tuo amore Signore, pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Terza stazione Gesù cade per la prima volta Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo Egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui per le sue piaghe noi siamo stati guariti noi tutti eravamo sperduti come un gregge ognuno di noi seguiva la sua strada Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti al mondo di disgustarti alle persone a te più care di affliggerti perché niente prevarrà contro coloro che gemmono sotto la croce per amor mio sotto la croce si impara ad amare ed io non la do a tutti ma solo alle anime che mi sono più care Diciamo insieme Signore pietà, pietà di noi Signore pietà, pietà di noi per tutte le volte che chiusi nel nostro egoismo dimentichiamo il sacrificio d'amore che hai compiuto per noi Signore pietà, pietà di noi per tutte le volte che la nostra vita non è una continua e generosa offerta per tutti i fratelli in difficoltà Signore pietà, pietà di noi per tutte le volte che non ci apriamo al perdono e alla misericordia Signore pietà, pietà di noi Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo e alla misericordia che ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Quarta stazione Gesù incontra sua madre Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo Simeone li benedisse e parlò a Maria, a sua madre Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'anima sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore La Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figlio di farci penetrare sempre più nel mistero della croce ed inebriarci con lei dei patimenti di Gesù La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato e dopo che il figliuolo di Dio patì per puro amore e tanti dolori non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore Diciamo insieme Signore pietà, pietà di noi Signore pietà, pietà di noi Per tutti i figli che fanno soffrire le loro madri Signore pietà, pietà di noi Per chi si trova nella sofferenza e non confida nella protezione di Maria Signore pietà, pietà di noi Per tutti coloro che non si lasciano accompagnare dalla presenza silenziosa di Maria Signore pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli Amen Santa madre di voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore Quinta stazione Gesù aiutato dal Cireneo Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai vedento il mondo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene Che veniva dalla campagna Padre di Alessandro e Rufo A portare la croce Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota Che significa luogo del cranio Consolati, tutto passa Gesù ti presenta una croce Una croce molto pesante, sì Ma non perderti d'animo La croce di Gesù fu molto più pesante Non temere Egli è vicinissimo a te E ti guarda È lì per alleviarti i dolori E tu Lui invoca sia nei pericoli Sia nelle cose prospere Diciamo insieme Signore e pietà, pietà di noi Signore e pietà, pietà di noi Per tutte le volte che per orgoglio Siamo incapaci di metterci al servizio degli altri Signore e pietà, pietà di noi Per tutte le volte che chiudiamo il cuore A Cristo che passa Signore e pietà, pietà di noi Per tutte le volte che non partecipiamo al dolore degli altri Signore e pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Si piore sempre nei secoli dei secoli Amen Santa Madre di voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore Sesta stazione La Veronica asciuga il volto di Gesù Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai redento il mondo Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi Non splendore per potercene con piacere Disprezzato è rietto degli uomini Uomo dei dolori che ben conosce il patire Come uno davanti al quale ci si scopre la faccia Lo so che soffri Ma la sofferenza non è forse il segno certo che Dio ti ama Lo so che soffri Ma non è forse questa sofferenza il distintivo di ogni anima Che ha scelto per sua porzione ed eredità Un Dio ed un Dio crocefisso Lo so che il tuo spirito è sempre avvolto nelle tenebre della prova Ma ti basti mia buona figliuola Il sapere che Gesù è con te ed in te Diciamo insieme Signore pietà, pietà di noi Signore pietà, pietà di noi Per tutte le volte che non sappiamo riconoscere in chi ci sta vicino Signore pietà, pietà di noi Per tutte le volte che con la nostra indifferenza feriamo i fratelli Signore pietà, pietà di noi Per tutte le volte che per paura di esporci non siamo testimoni della verità Signore pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Per il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Santa Madre di voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore Settima stazione Gesù cade per la seconda volta Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai redento il mondo Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira Egli mi ha guidato Mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra Ha ostruito i miei sentieri Mi ha spezzato con la sabbia i denti Mi ha steso nella polvere Mi copro il volto di rossore So benissimo che la croce è il pegno dell'amore La croce è caparra di perdono E l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce Non è vero amore Esso si riduce a fuoco di paglia Ad ogni intercessione ripetiamo Signore pietà, pietà di noi Signore pietà, pietà di noi Per tutte le volte che non sappiamo riconoscere le tue opere Signore pietà, pietà di noi Per tutte le volte che non ringraziamo te nella persona dei nostri fratelli Signore pietà, pietà di noi Per tutte le volte che voltiamo le spalle alla tua misericordia Signore pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli, Amen Santa Madre, ne voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore Ottava stazione Gesù incontra le donne di Gerusalemme Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai redento il mondo Gesù, voltandosi verso le donne, disse Figlie di Gerusalemme Non piangete su di me Ma piangete su voi stesse e sui vostri figli Ecco, verranno giorni nei quali si dirà Beate le sterili e i grembi che non hanno generato E le mammelle che non hanno allattato Allora cominceranno a dire ai monti Cadete su di noi E ai colli Copriteci Perché se trattano così il legno verde Che avverrà del legno secco? Figliuole dilettissimi di Gesù Ascoltate il mio debole consiglio Che è secondo Dio Allontanate da voi ogni soverchia preoccupazione Che nasce dalle prove con le quali il buon Dio vuole visitarvi E se ciò non vi è possibile Allontanatene da voi il pensiero Ed in tutto vivete rassegnate ai voleri divini Diciamo insieme Signore pietà Pietà di noi Signore pietà Pietà di noi Per tutte le volte che abbiamo rifiutato il tuo amore Signore pietà Pietà di noi Per tutte le volte che abbiamo preferito altro a te Signore pietà Pietà di noi Per tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto Re sulla croce Signore pietà Pietà di noi Gloria al Padre Al Figlio E allo Spirito Santo E al principio Ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Santa Madre De voi fate Che le piaghe Del Signore Siano imprese Siano imprese nel mio cuore Non a stazione Gesù cade per la terza volta Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce Hai redento il mondo Ma essi godono della mia caduta Si radunano Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso Mi dilaniano senza posa Mi mettono alla prova Scherno su scherno Contro di me Mi grignano i denti Grazie ai favori dei quali Dio non cessa di ricolmarmi Mi trovo migliorato assai Nella fiducia di Dio Per l'addietro le volte Mi pareva di aver bisogno Degli aiuti altrui Adesso non più Conosco per propria esperienza Che il vero rimedio per non cadere È l'appoggiarsi alla croce di Gesù Con la confidenza in Lui solo Che per la nostra salvezza Volle esservi appeso Diciamo insieme Signore, pietà, pietà di noi Signore, pietà, pietà di noi Per tutte le volte Che rifiutiamo la croce Come fonte di salvezza Signore, pietà, pietà di noi Quando, Signore Non ci accorgiamo Della sofferenza dei nostri fratelli Signore, pietà, pietà di noi Per tutte le volte Che non ci fidiamo di Te Signore, datore di ogni bene Signore, pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio E allo Spirito Santo Nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Santa Madre di voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore Decima stazione Gesù è spogliato Delle sue vesti Ti adoriamo Cristo E ti benediciamo Perché con la tua Santa Croce Hai redento il mondo I soldati si divisero le sue vesti Tirando forte su di esse Quelle che ciascuno dovesse prendere In alto dunque i cuori Pieni di fiducia in Dio solo Umiliandoci sotto la potente Sua mano Accettiamo di buon viso le trivolazioni A cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette Affinché Egli ci esalti nel tempo della visita Diciamo insieme Signore pietà Pietà di noi Signore pietà Pietà di noi Quando Signore Non ci spogliamo di noi stessi Per poter essere rivestiti di Te Signore pietà Pietà di noi Per tutte le volte che non ci impegniamo Nell'estaurare un clima di pace attorno a noi Signore pietà Pietà di noi Per tutte le volte che non ci convertiamo a Te Signore pietà Pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Santa Madre de voi fate Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore Undicesima stazione Gesù è crocifisso Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai redento il mondo Erano le nove del mattino Quando lo crucifissero E l'iscrizione Con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui Crucifissero anche due ladroni Uno alla sua destra E uno alla sinistra Tu mi hai fatto salire sulla croce del figlio tuo Ed io mi sforzo di adattarmici alla miglior maniera Sono convinto che giammai ne discenderò Diciamo insieme Signore pietà, pietà di noi Signore pietà, pietà di noi Signore, per tutte le volte che non siamo pronti al perdono Signore pietà, pietà di noi Gesù, per tutte le volte che non accogliamo il tuo perdono Signore, pietà, pietà di noi Cristo, per tutte le volte che non amiamo te e i fratelli Signore, pietà, pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo E' vero, in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Santa Madre dei voi fate Che le piaghe del Signore Siano imprese nel mio cuore Dodicesima stazione, Gesù muore in croce Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce redendo il mondo Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra Fino alle tre del pomeriggio Alle tre, Gesù gridò Eloì, Eloì, le Massa Bactani Che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed egli, dando un forte grido, spirò Allora il centurione che gli stava di fronte Visto l'ospirare in quel modo, disse Veramente, quest'uomo era figlio di Dio Soffri rassegnato Perché ne hai ben ragione Perché la tua sofferenza è voluta Da chi vuole renderti simile Al suo unigenito Soffri, ma non temere Perché chi ti pone nella sofferenza Si compiace di te Ma credi pure che Gesù stesso soffre in te E per te e con te Affin di associarti alla sua passione Per la salute dei fratelli Diciamo insieme Signore, pietà Pietà di noi Signore, pietà Pietà di noi Nostro Signore e Maestro Che ti sei fatto servo per noi Signore, pietà Pietà di noi Cristo Gesù Che sei morto in croce per noi Signore, pietà Pietà di noi Re dei re Che ci hai dato la vita Attraverso la tua morte e risurrezione Signore, pietà Pietà di noi Gloria al Padre, al Figlio E allo Spirito Santo Nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Nei secoli dei secoli Amen Santa Madre De voi fate Che le piaghe del Signore Siano imprese nel mio cuore Nostra gloria è la croce di Cristo In lei la vittoria Il Signore è la nostra salvezza La gloria è la risurrezione Tredicesima stazione Gesù è deposto dalla croce Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai redetto il mondo Sopraggiunto ormai la sera Perché era la parasceve Cioè la vigilia del sabato Giuseppe d'Arimatea Membro autorevole del Sinetrio Che aspettava anche lui il regno di Dio Andò coraggiosamente da Pilato Per chiedere il corpo di Gesù Comprato un lenzuolo Calò il corpo di Gesù giù dalla croce So benissimo che la croce è il pegno dell'amore La croce è caparra di perdono E l'amore che non è alimentato Nutrito dalla croce Non è vero amore Esso si riduce a fuoco di paglia Diciamo insieme Signore pietà Pietà di noi Signore pietà Pietà di noi Per tutto il sanco e innocente Sparso in ogni parte del mondo A causa delle guerre E delle ingiustizie Signore pietà Pietà di noi Per tutte le giovani vite Stroncate dalla droga E dai falsi ideali Signore pietà Pietà di noi Per tutte le mamme Che piangono i loro figli perduti Signore pietà Pietà di noi Gloria al Padre e al Figlio E allo Spirito Santo Era nel principio Ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Santa Madre Santa Madre De voi fate Che le piaghe del Signore Siano imprese nel mio cuore Misericordi Misericordi Sicut Pater Misericordi Sicut Pater Misericordi Sicut Pater Quattordicesima stazione Gesù è posto nel sepolcro Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce si redentò il mondo Giuseppe d'Arimatea preso il corpo di Gesù lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro se ne andò erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria Se anche vedessi l'inferno di fronte a me se mi trovassi sull'orlo dell'abisso non difiderei non dispererei confiderei in Lui Diciamo insieme Signore pietà pietà di noi Signore pietà pietà di noi per tutti quelli che soffocano la verità nell'ingiustizia Signore pietà pietà di noi per tutte le volte che non abbiamo testimoniato la fede nella resurrezione Signore pietà pietà di noi per tutte le volte che non abbiamo annunciato ai fratelli la gioia del Cristo risorto Signore pietà pietà di noi gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo che è nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Il Signore è mia luce e salvezza di chi avrò timore è Lui la difesa della mia vita di chi avrò errore Quindicesima stazione Gesù è risorto Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo Fratelli e sorelle mi sono fatto questa domanda che cosa abbiamo fatto oggi pomeriggio in questo tre quarti d'ora e mi sembra di rispondere così abbiamo camminato camminato dal basso verso l'alto dal piazzale a fianco della tomba del nostro caro padre Pio fino a questo piazzale di fronte a Gesù risorto abbiamo camminato dal basso verso l'alto dalla morte alla risurrezione abbiamo guardato o contemplato le quattordici più quest'ultima scena della passione del Signore del suo cammino e della sua risurrezione dello scultore Messina abbiamo ascoltato abbiamo ascoltato parole dalla parola la Sacra Scrittura e abbiamo ascoltato parole pensieri di padre Pio camminare contemplare ascoltare questi tre verbi ci hanno però fatto dei doni queste tre azioni si sono trasformate in qualche cosa che sento che abbiamo ereditato direi questo preghiera preghiera personale e comune insieme testimonianza anche questa testimonianza personale e comune insieme e incontro incontro con Gesù e tra di noi preghiera testimonianza incontro e prima della benedizione vorrei soffermarmi su quest'ultima quest'ultimo dono l'incontro venerdì venerdì sera ho seguito la via Crucis in una piccola parrocchia della nostra diocesi nella chiesa di Maria della Libera a Macchia e ho scoperto che hanno aggiunto una mezza stazione a un certo punto adesso non mi ricordo se la sesta e mezza o l'ottava e mezza ed è stato spiegato così perché lungo questo percorso il percorso del Calvario della via Crucis Gesù incontra tante persone di alcune sappiamo il nome Maria sua madre Veronica il Cireneo e qui l'abbiamo contemplato nel volto di Padre Pio il gruppo delle donne di Gerusalemme la folla di chi crede di chi dispera di chi grida chi mancava in questo incontro ed è il motivo della mezza stazione giunta manchevamo noi crediamo di essere noi a incontrare Gesù no è lui che viene a incontrare ognuno di noi e ci vuole rendere un noi comune un noi di fede una testimonianza autentica e nei pensieri che abbiamo ascoltato salendo camminando in salita di Padre Pio mi hanno colpito alcuni aggettivi in particolare uno nelle prime stazioni definisce la croce dolce o dolcissima il ripetere con insistenza due termini apparentemente opposti croce e amore e averci ricordato dalla prima stazione che stavamo compiendo il gesto dell'ascensione dell'ascensione al cielo attraverso la via della croce che ci insegna ad amare e così siano questi i sentimenti che riportiamo tornando giù oggi è la domenica della trasfigurazione siamo saliti forse il nostro cuore un pochino di bello e di palpitare ha sentito ma non è qui dove dobbiamo stare neppure di fronte al Signore risolto dobbiamo tornare giù in mezzo alla gente in mezzo alla storia in mezzo alle fatiche alle vicende di ogni giorno alle contraddizioni addirittura al peccato per essere testimoni testimoni di quanto abbiamo visto e conosciuto ecco con questo adesso accogliamo la benedizione del Signore se avete ancora il testo in mano diciamo insieme scenda Signore la tua benedizione su questi tuoi figli che hanno commemorato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui venga il perdono e la consolazione sia cresca la fede si rafforzi la certezza nella redenzione eterna per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi Dio che nella passione del suo figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore vi faccia gustare la gioia dello spirito nell'umile servizio dei fratelli Cristo Signore che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna vi conceda la vita senza fine voi che seguite Cristo umiliato e sofferente possiate aver parte alla sua risurrezione e la benedizione di Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amén Nostra gloria è la croce di Cristo in lei la victoria il Signore la nostra salvezza la vita la vita sulle sulle pio amén Grazie a tutti